Wattin in zona Bonansea! E c'è il vantaggio della Juve con Barbara Bonansea, un pallone morbidissimo e l'ha posizionato sotto la traversa per il gol dell'1-0. C'è anche Zamaniani in zona, saldatrici su, il pallone a centroare, Miglioia con i pugni, poi Caruso la mette giù, il destro di Caruso! Un quarto d'ora e la sblocca la Juve con Arianna Caruso al terzo gol in campionato. Tratta Cernoia, parte Cernoia con il sinistro! E sembrava annunciato e l'ha messo all'incrocio dei pali! Riesce ad aggirare l'avversaria Zamanian, tocco per Urtig che è in trenare di rigore, Urtig con il sinistro! Il poker della Juve, che gol di Lina Urtig che l'ha fatto sembrare di una facilità incredibile con il sinistro a giro. Urtig ce l'ha sul destro, non vuole calciare, allora coinvolge ancora dall'altra parte Galli che va con il destro in porta! E c'è il gol della Juve, il 2-0 della Juve, la rete di Yaya Galli che ha calciato da fuori! Zamanian guarda la porta, il destro di Zamanian! Che gol di Zamanian! Il 5-0 è un gioiello assoluto! Girelli, in aria, Girelli! Sotto l'incrocio! Cristiana Girelli, 27esimo minuto! La Juve è in vantaggio, tanto per cambiare, con il gol di Cristiana Girelli! Il pallone al limite per Stascova, che mette giù il pallone e prova a girarsi! Stascova, Stascova, Stascova! Ma che gol lì Stascova! 44esimo minuto! La Juve in vantaggio, se l'è costruito e creato! Ancora il cross di Vary Alves verso Girelli! Che gol di Cristiana Girelli! Il sesto gol è un gioiello assoluto! Il cross a Stascova diventa buono per Bonanzea! 52esimo minuto! Che gol di Bonanzea! Che ha avviato l'azione, ha chiamato il pallone a centroare, è andata a chiuderla per l'1-0 della Juve! Barbara, Bonanzea! Grazie a tutti! Grazie a tutti!